Ciao a tutti. Per come la vedo io, le cose mi sono andate molto male. Sono un uomo orgoglioso come me. Non lavorare e dipendere dallo Stato è una cosa brutale. Se mi viene in sangue mancare quello, però io non saprei proprio più come fare. Mi vedo in un culo sacro. Mi dispiace, mi fa male. Grazie. 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 Grazie.